Un premio Nobel alla bici, ma un premio Nobel anche a una bici dal forte impegno sociale. Sì, perché la bicicletta è al tempo stesso un mezzo di trasporto sostenibile. In momenti di allarme e smog è difficile non capire che l'uso della bicicletta fa respirare le nostre città. Ma è anche un mezzo di trasporto legato alla libertà e ai diritti. Noi abbiamo scelto l'iniziativa partita da Caterpillar di promuovere per il Nobel con un gruppo di parlamentari. I parlamentari possono avanzare una candidatura per il Nobel e abbiamo raccolto 118 firme di proporre per il Nobel la squadra femminile di ciclismo afghana. Sono ragazze coraggiose che andando in bicicletta ci parlano non solo della sostenibilità dei trasporti ma ci parlano anche di libertà perché in quel paese non è così semplice. Ci pare una maniera per tenere assieme l'ambiente e i diritti. Un futuro migliore, se vogliamo anche una cura omeopatica contro i fatti di colonia per capirci perché i diritti delle donne aiutano a costruire un futuro migliore.